bravo il grande è quello tu non si non si ieri non hanno giocato non ho fatto il 99 tutti i vecchi il 98 il 98 il vecchio era in scuola era in scuola chi? vecchi? si era un mediano si si no dove è? ha detto la moglie di ma cosa? ah per bene eh adesso si basta basta ho fatto le foto non 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.